Incendio giovedì poveriggio all'interno della raffineria Eni di San Nazaro de Burgundi. Si è innalzata una colonna di fumo nero che era stata visibile a decine di chilometri di distanza. Un appello alla popolazione a rimanere in casa è stato fatto dal primo cittadino di San Nazaro. Tra l'altro un lavoratore si sarebbe fatto male ad un ginocchio. La prefettura di Alessandria nel corso della serata è dichiarato cessato lo stato di preallarme per i territori di Novi Ligure, Arquata, Scrivia e Piovera. Le prime analisi non hanno infatti rilevato concentrazioni particolari di inquinanti. Il governatore Lombardo Maroni fa sapere che la tensione è massima e le competenti strutture regionali si sono attivate e sono in contatto con le autore.